Matteo Salvini, come è andato l'incontro con Matteo Renzi? Tre quarti d'ora di concretezza, nel senso che gli abbiamo portato la voce del territorio, del nord, richieste di federalismo fiscale, quindi i soldi nelle casse dei comuni da spendere per sistemare gli asili, le strade, gli ospedali. Abbiamo chiesto esenzione fiscale per i comuni alluvionati, attenzione alla montagna, di cui a Roma si fottono da decenni, e abbiamo portato un presidente di provincia per quello. Su tutti i due temi, l'immigrazione e su questo le strade di Vergon, perché ci ha ribadito Renzi la volontà di portare al voto lo ius soli, però dal nostro punto di vista la cittadinanza, il voto e l'integrazione non sono biglietti premio dell'esse lunga, ma vanno conquistati, faticati, sudati e meritati alla fine di un percorso. Il tema euro ed Europa non ci siamo, non ci siamo, temo che Renzi sia la perfetta prosecuzione dei monti e dei letta a disposizione di Bruxelles e di Berlino, delle banche, della finanza, delle multinazionali. Chi non ridiscute i vincoli europei e l'euro che è nello strumento di morte è complice dello sterminio di un popolo. Oggi c'erano a Roma migliaia di artigiani, commercianti, partite IVA e gente che è massacrata dall'euro e da questa Europa. Quindi Renzi ha esordito l'incontro dicendo che sull'euro la sua posizione è opposta alla nostra e vedremo se gli italiani preferiscono la nostra di speranza o la sua di asservimento.